Povera Clio, è più di quanto possa tollerare la sua sensibilità di nobile dal sangue blu. Clio! Stavamo giusto parlando di quanto fossero scarse Clio e la sua squadra delle Tarot Leaders. Ehi, quelle sono delle mie amiche! E allora perché non te ne scerco di migliori? Vuoi dire amiche come te? Ciao ragazze, ehi Claudine, hai risolto con Dracolaura? Lei non mi vuole parlare, e neanche Claude. Come va con Jill? Oh, adesso va meglio, però è sempre così complicato. Come ti capisco? Clio, condus! Vi giuro che alle volte quel ragazzo mi fa diventare matta. Come ti capisco? Frankie, per favore, non potresti mai capirmi. Sei troppo giovane. In quest'ultima uscita di Mostrolescenza c'è scritto che alle ragazze mature piace parlare di rapporti di coppia. Se non hai un ragazzo potresti essere esclusa. Cosa puoi dire? Capisco alla perfezione. Davvero? Ma è chiaro che ho anch'io un ragazzo. Dici davvero? Dove si trova? Chi sarebbe? Come si chiama? Vogliamo vederlo? Ah, beh, oggi non lo potete vedere. Perché no? Oggi si è sentito un po' male, ma di certo domani starà meglio, così lo incontrerete. Non vediamo l'ora di conoscere il tuo ragazzo. Perfetto. Va bene, io lo chiamo per sentire come sta. L'unico modo che ho di procurarmi un ragazzo per domani è costruirlo. Nessun problema, mio padre lo faceva in continuazione, quanto può essere difficile. Spero che così basti. Ehi, Jill, è bello che sei riuscito a far pace con Laguna. È solo che mi sento in colpa di averle mentito, dicendo che i miei l'avevano accettata. Se lo viene a sapere si sentirà tradito. Lo so. Sei gelosa? Ma quanto sei divertente! Come? Vuoi ballare qui? No, ma che romantico! Non vuoi fare le presentazioni? Scusate! Questo è... Oh, Diod! Moriva dalla voglia di conoscervi. Che cosa dici? Due biglietti per Justin Vyder! Ah, ma sei il migliore, oh Diod! Hai letto di nuovo quelle stupide riviste per adolescenti? Hmm, può darsi. Non devi avere un ragazzo per farti accettare da noi. Non serve? No! Sei divertente, interessante e simpatica anche da sola. Questo sì che è un sollievo. E voglio dire, vedo tutti i problemi con cui dovete fare i conti. E lo so che non sono ancora pronta per frequentare dei ragazzi, almeno quelli che costruisco. Stai rompendo con me? Dopo tutto quello che c'è stato? Perché? 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 Oh, fanno proprio una bella coppietta. Non mi seccare, ottimato! Se mio fratello e la mia migliore amica mi stessero mettendo in imbarazzo davanti a tutta la scuola, allora sì che sarei seccata. Sai bene quanto a me che non possono stare insieme. È semplicemente... Ho sbagliato! Sono troppo diversi! Draculaura deve essere completamente innamorata di Claude se sta addirittura pranzando con lui. Non ti seguo! È la regina incontrastata delle vegetariane! Si sente male anche solo a vederla, la carne! Per me Claude neanche lo sa che è vegetariana! Oh, Frankie! Sai, mi hai fatto proprio venire un'idea geniale! Oh no! E poi boom! Partita finita! È stato davvero fantastico! Claude, lo sai che è una partita importante questa sera? Quello che ti ci vuole è questa bella succulenta bistecca con tanto sangue! Draculaura! Voi cosa avete da guardare? Frankie, portami via! Draculaura! Svettila! Non vorrei certo andarle dietro, vero? Invece sì! Non è una di noi, Claude! Lei è una che vede un pezzettino di carne e sviene! Tu sapevi proprio tutto, non è vero? E hai voluto farlo lo stesso! Sarai contenta adesso! È una tradizione della Monster High fare lo scherzo ai maturandi tra due settimane! Ci farebbe comodo una come te! Sembra avere un talento naturale per il tradimento! Attenta dove vai, umano! Un umano in una scuola di mostri! Si è appena trasferito, è Jackson, mio cugino! Tuo cugino è umano! È una lunga storia! Beh, non possiamo abbandonare tuo cugino così! La filosofia della Monster High è di accettare tutti, non importa chi o cosa sei, anche se cosa vuol dire umano! Ehi, Jackson! Qui c'è un posto per te! Draculaura! Non so perché l'ho fatto, davvero! Non so neanche perché prima ero arrabbiata! Dicevo a me stessa che eravate troppo diversi! Ma adesso ho capito che non si trattava assolutamente di te! Ma era solo che avevo paura di poter perdere la mia più grande amica! Ora, potrai mai perdonarmi? Questa è stata davvero la cosa più bella che abbia mai sentito! Ops! Mi dispiace davvero tantissimo, cara! Ma certo che ti perdono, scemotta! La nostra amicizia è più importante della mia relazione con Claude! È vero! Lo trovo un po' strano, ma mi ci abituerò! Tra l'altro, Draculaura, tu sei l'unica ragazza che conosco che penso sia veramente all'altezza di mio fratello! Vai, Jean! Prendo da mangiare, volete qualcosa? Allora, prenderò un hamburger, un hot dog e un... Ah, già! No, no, sto bene! Vai, la duna! Questa sarà una foto perfetta per l'ormo bostruoso! Prossimo! Ha chiamato me? Scusa, ma non parlo proprio lo zombie! Adesso Clio ti firmerà l'album mostruoso! Ehi, volete vedere l'album mostruoso? Siamo venute benissimo! Magari dopo, dobbiamo assolutamente ripassare per l'esame di mostrobiologia! Posso ripetere tutto il sistema circolatorio a memoria, vuoi sentire? Beh, ah, sono in ritardo per quella cosa! Ehi, complimenti! Ci sono delle belle foto di voi due nell'album! Che bello, hai sentito? Stupendo! Sembra che siano arrivate le nostre stelle! Ho fatto una galleria di foto solo su di te e Gilles! Tutti devono poter vedere che siete proprio una squadra fantastica! E adesso lo vedranno! Firmare tutti quegli album è stato veramente faticoso! È il prezzo della fama! Mr. Rotter, lei riesce a far risuscitare tutte le lingue morte! Beh, le avevo anche studiate quando erano vive! Cosa? Signorina Deville, se hai intenzione di usare quei palloncini per fare uno scherzo ai maturandi, le suggerisco vivamente di cambiare idee! Non ho idea di come ci siano arrivati! Farebbe meglio tenere d'occhio le Terror Leaders, Mr. Rotter! Questa è la mia preferita! Jill, a te quale piace di più? Non lo so, sono tutte terribili! Lo so, dovevo usare una lente acquatica! Ma non è quello! Ascolta, devo dirti una cosa! Ok! Io non ho detto ai miei genitori e di noi due! Mi hai mentito! Come hai potuto? Sai come la pensano su quelli dell'acqua salata! Mi hanno minacciato di mandarmi in un collegio di fiume se continuavo a vederti! Non avevo scelta! Farò tardi per l'esabiliare! Laguna, aspetta! Basta scrivere! Passate i compiti in prima fila! Com'è andata? È stato come bere un bicchier d'acqua, sorella! Oh! Mmm, delle uova marce di Cargoi! Le Terror Leaders hanno forse in mente qualcosa che dovrei sapere? No, signore! Non so proprio da dove siano venute! Così dici tu! Ho capito come aggiustare tutto! Dirai la verità ai tuoi? No! Non gli farò vedere l'album, non devono sapere! O li affronti o non lo fai! E se non lo fai, allora devi rimediare invece di scappare come un dingo impaurito! Mi sembra di non conoscerti neanche! Mi mancano solo Jill e Laguna e poi avrò le firme di tutti quanti! Ehi, hai perso questo! Aspetta, questo non è mio! Di chi è? Ricetta per bombe puzzolenti! Strano! Cosa facciamo se poi mi fanno cambiare scuola? Ti perderei, per sempre! Non devi farlo solo per me! Fallo per te stesso! Non puoi farti rovinare dai loro pregiudizi! Mi firmate l'album? Oh, sì! Quest'anno metteremo anche una copia online per la prima volta! Come? Sì, lo stanno inviando a tutti i genitori, non è bello? Penso di sì! Tu cosa dici? Campione! C'è lo zampino di Torelai in questa faccenda! Ora tutto quadra! Quel felino fraudolento sta cercando di incastrarci! Quando i tuoi genitori vedranno la foto di te in Laguna nell'album, sarà veramente la fine! Devo chiamarli e spiegare che è stato tutto un grosso malinteso! Ciao mamma! Devo spiegare una cosa a te e a papà! Aspetta Laguna! Mi avete sempre insegnato che i mostri d'acqua salata non sono buoni come noi! Dicevate che erano inaffidabili, maleducati e che puzzavano forte! Ehi! Ma soprattutto che erano disonesti! Ma adesso so che vi sbagliavate! Io ho un'amica! Ed è il mostro più onesto, affidabile e sincero che conosca! Viene dal mare e... Cosa hanno detto? Non sono decisamente dello stesso avviso, ma non sono mai stato meglio! Allora... Sì, ci vediamo agli allenamenti, Laguna! Sì, ci vediamo lì, Jill! Sappiamo che sei stata tu, non cercare di negarlo! Il piano più geniale mai architettato in tutta la storia! Ma certo che mio! Esatto, Guglia! Uno dei palloncini che cadrà alla fine della cerimonia conterà un nuovo marcio di gargoyle, facendo esplodere una super bomba mefita! Così, Mr. Rotter, penserà che siamo stati noi! Esattamente! Così verrete spusse! Ma... perché? Perché con voi fuori dai piedi la squadra delle Terror Leaders sarà tutta per noi! Regneremo sulla scuola! Ci avete appena rivelato il vostro piano! Che sciocche! È troppo tardi! La cerimonia è già cominciata! Forza, andiamo! Non ce la faranno! Darpia, Kraken, Cerbero, Titano! Non troveremo mai quello giusto in tempo! Questo è davvero il posto ideale dove godersi lo spettacolo? Lo sento! So qual è! Si trova lì! Ottimo! L'abbiamo scoperto! Ma come facciamo ad arrivarci? Beh, facciamo quello che sappiamo fare meglio! Non riesco ad arrivarci! Basilisco, Centauro, Golem... Dobbiamo sbrigarci, manca poco! Ehi, Frankie, su, dammi una mano! Ce l'abbiamo fatta! Gulea, te ne stai al computer quando accadono cose importanti! Ottocento punti a testa per matematica! Giulia, tu sei davvero un genio! Tre dei nostri studenti hanno raggiunto il punteggio più alto di matematica nella storia della Monster High! Gli viene assegnata una borsa di studio per partecipare al prestigioso campo di vacanze estive di tridolo calcolometria con effetto immediato! Chissà chi saranno quei tre super secchioni! Sì! Ci credi che la scuola è già finita? Il tempo è passato in fretta! Pensi che ci potremmo vedere durante le vacanze estive? Certo, adesso i miei sono arrabbiati, ma gli passerà... Hai sempre ragione! Acqua dolce! Acqua salata! La cosa peggiore della fine della scuola? Per trovare i calzini sporchi di mio fratello nel mio armadietto! Che schifo! Oh, perdersi tutte quelle chiacchiere succulenti! Ed è per questo che mi sono iscritta alle notizie del gossip spaventoso! Cosa sarebbe? La più grande fonte di pettegolezze della Monster High! Se succede qualcosa lo mette in rete! E chi è? Nessuno lo sa! È come un mistero condito con una salsa segreta! Oh, riusciranno Gile Laguna a stare lontani! Ah, emozionante! E smettila, Manny! Perché non la finisci? Ma certo, umano! Come vuoi finire? Sottoterra? Sotto un treno? Il bullismo è contro le regole! E tu cosa pensi di fare al riguardo? Ci troviamo per caso nel mostro asilo? No! E allora perché ti comporti come un bambino? Cosa penserebbe tua sorella Manny se lo sapesse? Non gliel'andrai mica a dire! Non toccarlo Manny! Grazie! Frankie, so quanto sia dura essere l'ultimo arrivato qui! Non riesce ad inserirti! Mi inserisco negli armadietti, nella spazzatura! Ti sorprenderesti dove riescono a inserirmi quelli! Sono... Jackson! Piacere di conoscerti! Ah, Jackson! Mio padre non deve scoprire che ho rotto il mio ibarra! È solo un'altra cosa che sfrutterebbe per potermi paragonare a mia sorella maggiore! Nefera! Per fortuna si trova fuori dal paese! Una volta ha organizzato una festa gigante e ha fatto dare la colpa a me! Ed è per questo motivo che non mi ha permesso fare feste a casa mia quando mio padre è fuori città! Il padre di Cleo è fuori città! Grande festa a casa sua stasera! Stasera grande festa da Cleo? A scuola ne parlano tutti! Ti andrebbe di venire come alla festa di Cleo? Certo! Cioè... Vorrei... Ti senti a disagio con i mostri, ma sarai con me! Va bene! Ottimo! Cioè, bene, perfetto! Ci vediamo lì! Wow! Attenta! Come si entra? Si fa così! Oh no! E ora Cleo le prenderà un colpo quando lo scoprirà! Di sicuro! A proposito, dov'è Cleo? Si sta comprando un nuovo cellulare! Aspetta, come ha sparso la notizia della festa? Non l'ha fatto! È colpa del gossip spaventoso! Allora... Cleo non sa niente di tutto questo! Oh no! Allora siamo entrate... Illegalmente! Presto! Facciamo uscire tutti quanti prima che... Oh mio! Faraone! Sì, possiamo spiegare! Avete organizzato una festa solo per me? Oh, che felicità! Questa festa è grandiosa! Crow! 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 Sono il campione mangiapizza! Hai visto come li ho stesi? È stato... Non posso starti vicino adesso! Vampira vede il suo lupo come un maiale e glielo si lascia in faccia! Le mie corde sono infuocate! Cleo mette gli ospiti in pericolo con ringraziamenti distruttivi! E Gino come le sta trascorrendo le vacanze? Beh, lui non ha risposto a nessuno dei miei messaggi! I suoi erano seccati della sua amicizia con me! È il suo primo giorno di vacanza e... Forse è solo distratto! Certo! Ciao, It! Hai visto tuo cugino? Dovevamo incontrarci alla festa! Ti sei fatta dare buca da Jackson? Grande! Non farti prendere dallo sconforto! Cosa ti aspetti? È solo un essere umano! Dai, entra e basta! Puoi farcela! No, non puoi! Non ne fai parte! Qui non ti vuole nessuno! A Franky sì! Non ti vuole mollare, Claude! È così, invece! Mangio come un maiale! D'altronde è una cosa tipica del lupo! È ovvio che Draculaura sarà imbarazzata a stare con me! Oh, oh, oh! Questa non è una festa! Ah! Questo è quello che io chiamo una festa! Chiamoci dentro! Ecco a voi, All-Kind, sul fidine di fuoco! Sì, sì, sì! Ciao, bellezza ad alto voltaggio! Chi? Io? Sì! Sei l'unica che ha la carica giusta per riuscire a salvarvi la serata! Vai! Ah! Oh, ti prego! So di essere un animale, ma posso cambiare se mi concedi solo un'altra possibilità! Claude, non voglio che cambi! Allora, perché sei scappato? Ma perché stavi mangiando aglio! Sono una vampira! Non posso starti accanto con quell'alito mortale! Ora, lavati i denti che balliamo! Questa festa è diventata incontrollabile! È venuto ogni mostro degno di questo nome! Ci sono già tantissime foto in rete sul gossip spaventoso! Ti ricordi quando sua sorella Nefer ha dato una festa e ha incolpato Clio? Ho paura che la metterà nei guai! È stata messa in punizione per un mese! Un applauso per Clio, che ha organizzato la più grande festa del secolo! Anche quando non ne so nulla, organizzo sempre le feste migliori di tutta la scuola! Ma se lo scopri tuo padre... Mio padre si trova fuori città, non lo scoprirà mai, a meno che non glielo dica qualcuno! E chi lo potrebbe mai fare? Naturalmente glielo direi io! Nefera, cosa stai facendo qui? Non ti fasciare quella stupida testolina mediocre che ti ritrovi! Hai cose più importanti di cui preoccuparti! Tipo come impedirmi di rivelare a papà di questa festicciola! Ti prego, Nefera, non glielo dire! Farò tutto quello che mi chiedi senza battere ciglio! È proprio quello che speravo! Vedi di non scordartelo, sorellina mia? Questa sarà la peggiore estate che passerà in assoluto in tutta la tua vita! Che cos'ha, Gulia? Non hai saputo? I suoi non la lasciano andare alla Necrocon quest'anno! Ma oggi non era l'ultimo giorno! È tutta l'estate che aspetta questo evento! Deadfest è il suo fumetto preferito! Figurati, lei ha tutti i numeri! Tranne che per uno, il lussuoso, raro e introvabile Deadfest numero zero! Si sa dell'esistenza di un'unica copia ed oggi un mostro fortunato lo potrà vincere per estrazione alla Necrocon! E il suo sogno più grande è di essere quel mostro fortunato! Ma non ci può andare... Vorrei solo che ci fosse qualcosa che potessimo fare! La tranquilla e timida studentessa Gulia Yelps si trova alla fiera del Necrocon circondata da suoi amici stiga... Ehm... Lettori di fumetti! Per tutti i cavalieri senza testa! È vero? È possibile? Sì! È un'edizione perfetta di Deadfest! Numero zero! Il fumetto più rare conosciuto sia da mostri che da umani! Sono io! Il ladro fantasma! L'ombra furtiva! Il predatore oscuro! Ammirate il vostro prezioso albo a fumetti! Distruggerà il suo valore da collezionista! Chi fermerà il ladro fantasma prima che sia troppo tardi? Morso da un colibri radioattivo, il supereroe Deadfest, un normale ragazzo zombie, acquisisce il potere della super velocità assoluta! E adesso, quei poteri sono stati trasferiti alla sua super fan numero uno, Necrolampo Gulia! Lo tiro fuori lentamente dalla sua custodia di plastica sigillata! E con un ultimo gesto malvagio sfoglierà con gusto le sue pagine perfette! Mentre bevo una bibita e mangio delle ottime patatine al formaggio! Come hai fatto ad arrivare qui? Non ha importanza! Fatti un bel volo all'ingiù! Necrolampo Gulia ce l'ha fatta! Ha sconfitto il malvagio ladro fantasma e ha riportato il fumetto al suo vero posto! Gli appassionati di fumetti di tutto il mondo hanno un grande debito verso di te! Clio, non posso credere che sei riuscita a vincerle quel fumetto! È facile vincere un'estrazione quando fai partecipare tutti i tuoi diecimila servitori! Sei stata veramente una grande amica, Clio! Beh, fa così tante cose per me, ho pensato di dover fare qualcosa per lei, ma non provate a dirlo in giro! Ho una reputazione da difendere! Ciao mamma e papà, sono io! Mi sto divertendo un mondo alle spiagge oscure! Certo, c'è molto da lavorare! Se spolvero un altro po' mi cascheranno artiglie e zampe! A me è già successo! Carrie Murphy ci sta prendendo in giro! Le altre squadre si allenano sul serio! Caspita, quelle vengono dall'Accademia Vampirica Smogs North! Si credono tutto questo granché! Perché? Perché sono tutte alte! Perché hanno vinto le mostro finali quattro anni di fila! Sono le nostre più grandi rivali! E ti rigirano anche il coltello nella piega! Calmatevi ragazze! Io e Guli abbiamo lavorato su un progetto davvero super mostruoso! Spero di sì, perché quelle snob di Smogs North faranno di tutto per vincere! Di tutto! Ma non c'era solo l'allenamento! Siamo anche riusciti a rilassarci meritatamente in spiaggia, mentre Cleo e Guli si dedicavano alla nostra sequenza! Gil! Sì? Ti va di aiutarmi a battere dei dronghi a mostropolo? Eh, non posso! E dai, acqua dolce! Solo una partita! Siamo una squadra! Eh, questo non è un buon momento! Allora, quando? Non lo so! Non ne voglio parlare! Eh dai, Gil! Puoi raccontarmi tutto? Beh, questo non te lo posso dire! Non voglio ferire i tuoi sentimenti! La spiaggia era proprio divertente, ma avevamo del lavoro da fare! Con la super creatività di Cleo e l'occhio di Guli per la fisica avanzata, sono riuscita a trovare la sequenza perfetta per noi! Sembra complicato! Hai ragione, Guli! È stato progettato scientificamente per vincere! Quello che dobbiamo fare è impararlo! Ehi, cucciole! Come va la vita? Che cosa vuoi? Volevamo augurarvi buona fortuna prima della vostra esibizione! C'è dell'altra! Era la vostra sequenza quella? Sì, è spettacolare! Questa è una prova preliminare, per cui andate, traditrici! Possiamo iniziare! Lo riprenderò con il mio aibara, così i miei lo potranno vedere! Inizieremo con una gavotta ectoplasmatica e poi un triplo salto mortale rotante! Andava tutto per il meglio! Ciao, sono Frankie! Sì, è vostra figlia! Ok, sento di aver finalmente imparato la nostra sequenza! Come avrete appena visto, non lasceremo scampo a quelle di Smog's North! Ops, aspettate un attimo! Ciao, Frankie cara! Volevo farti sapere che anche se non faccio più parte della vostra squadra, voglio che vinciate assolutamente la gara! È un bel pensiero da parte tua, stavo finendo la videolettra da mandare ai miei, la volevo inviare, ma qui dentro non c'è il wifi! Oh, se vuoi! La potrei spedire io per te! Basta che mi dai la tua chiavetta! Grazie, sei la migliore! A dopo, mamma e papà, ci sentiamo incrociate le dita! Volete riguardare la sequenza della Monster High un'altra volta? Lo immaginavo! Il piacere è tutto mio! Sono così rilassata che non riesco a stare sveglia! Non ti rilassare troppo! Abbiamo l'esibizione più grande della nostra vita stasera, preparati! Calmati, divina maestà, con la sequenza creata da te e da Guglia non possiamo perdere! Non certo grazie a Scary Murphy e i suoi strani lavoretti! A un piano! Dovete solo crederci! Jill mi ha evitata tutta la settimana, che cosa ti è preso? Sai, i miei non vogliono che faccia amicizia con te! Cosa vuoi dire? Perché la tua gente, Laguna, viene tutta dal mare! E allora? Io sono d'acqua dolce, è proibito! Non crederai a quelle sciocchezze, vero? No, ma i miei genitori sì, non mi permetteranno di frequentarti! Mi dispiace, addio! Ho preso la posta! Metteresti la mia sul letto, per favore? Mi sto preparando! Anche io! Sì, anch'io! Frankie? Draculaura? Oh! Perché Draculaura dovrebbe ricevere una lettera da mio fratello? Solo con i miei amici, eh? Le prime sono dell'Accademia Smogs North! Andiamo a vedere le rivali! Vediamo com'è una sequenza da seconde classificate! Ma quelle non sono... Le vostre mosse? Proprio così! La vostra sequenza, progettata scientificamente per vincere, nelle mani dei vostri nemici! Mi chiedo come mai sia successo! Il mio video? Io vi avevo avvertite! Monsterite, il bastone della vitale non avrai e tu piangere dovrai sconfitta! Ora e per sempre tu sarai! Buona fortuna! Vi servirò! Sono per tutti! Dopo tutto il mio lavoro e i miei innumerevoli sforzi! Tutti i nostri sforzi! Adesso tocca alla Monsterite! Che cosa facciamo? Possiamo improvvisare! Dobbiamo solo usare il nostro addestramento delle spiagge oscure! Tutto quello che abbiamo imparato sono stati dei lavori inutili! Ma certo, Skerry Mart è un genio! Dovete solo imitarmi! Ma sei sicura, Cleo? Speriamo che... Credete in me e basta! Sapevo che c'era qualcosa di speciale nascosto in voi, patatine fritte! È per questo che sono stata così dura! Volevo che tiraste fuori il meglio! Grazie, signora Murphy! Congratulazioni alla Monster High e alle vincitrici del bastone della vittoria! Non mi posso credere! È il più bel giorno della mia vita! Il mio pubblico adorante! Più forte ragazze non riesco a sentire bene i vostri elogi! Sei gelosa? Perché non fai una foto? Ti durerà di più! Non mi fesce nessun problema! Hai proprio un bel coraggio a mostrare la tua faccia da randagio da queste parti dopo tutto quello che ci hai fatto! È così che parlate alla nuova direttrice dell'album mostruoso della Monster High? Sei la nuova direttrice! E io che pensavo che sapessi sempre tutto quanto! Ogni studente ne ottiene una copia! Si potrebbe quasi dire con una certa influenza su come sarete ricordati da tutti gli altri studenti! Per sempre! Allora, uno scatto veloce! Va bene, facciamola finita! Un pochino più a sinistra? Perfetto così! Smile! Il capitano è in prima fila! Sarà stata una precipitazione improvvisa? Tu sapevi di Torelai e dell'album mostruoso? Non hai visto il messaggio? Messaggio? Sono io quella che manda i messaggi! Forse sei rimasta un po' fuori dal giro perché le Terror Leaders ti hanno distratta! Io sarei fuori dal giro! Sono io il giro! Frankie, mi vedi socialmente irrilevante? Oh, ma perché lo chiedo proprio a te? Ma tutti indossano i boa, Clio! Deve essere solo un brutto sogno! Ehi, Dee, non ti avevo vista! Io mi chiamo Draculaura, Dee è una lettera, mi sembra che le lettere non ti piacciono! Ma cosa stai dicendo? Ti ho scritto tutti i giorni alla spiaggia oscura, non hai mai risposto! Ehi, ma certo che l'ho fatto! Per ora non ti voglio neanche parlare! Ti sto dicendo la verità, ti ho risposto! Vai! Lo so che li ho messi qua dentro! Uno di questi ha il potere di vedere il futuro per potermi tenere sempre un passo avanti con le nuove tendenze! Esatto, Guglia, o scatenare una delle sette piaghe d'Egitto, ma che possibilità ci sono? Potente totem feroce e bestiale che io sia la regina della scena sociale! Ehi, che cosa sta succedendo? Ci rinuncio! Aspetta, Laguna! Ho capito tutto, Jill! Non puoi stare con una d'acqua salata! Io non ho problemi, ma i miei sì! È proprio quello! Non riesci neanche a farti valere, Jill! Laguna! Oh, che fai tutto solo, piccoletto? È finita! Non c'è nulla che possa fare per recuperare il posto che mi compete in cima alla piramide sociale della scuola! Sai, se qualcuno ci riuscisse sarebbe senza ombra di dubbio la più popolare di tutta la nostra scuola! Io! Lo faccio io! E le mie amiche siamo pronte! Ma davvero? Sei proprio una ragazza coraggiosa, Cleo! Perché sai, nessuno ha mai voluto passare la notte qui alla Monster High il venerdì 13! Venerdì 13? Ho appena mandato un messaggio dicendo a tutti che l'avresti fatto! Oh, ma posso anche mandarne un altro dicendo che hai troppa paura? Eh... Noi non ci facciamo spaventare così facilmente! Ecco lo spirito giusto! Ora! Ah! Io odio il venerdì 13! Non posso credere che Cleo ci costringa a passare qui la notte! Ah! Oh! Oh! E così vorreste passare la notte del venerdì 13 qui alla Monster High! Ah! Le regole dell'istituto sanciscono che non ve lo posso impedire! Certamente affronterete maledizioni spaventose, terrori indicibili! Nessuno è mai riuscito a passare qui la notte! Indicibili è una cosa negativa? Chi lo sa! Pensate che starò qua a cercare di scoprirlo? Stallone dannato al galoppo! Grazie per essere rimaste con me ragazzi! Torre Lai non riuscirà a spuntarla! Sapete, venerdì 13 è l'anniversario di qualcosa di veramente spaventoso! E appena cala il sole, si risveglia una creatura mostruosa! Sgattagliela per i corridoi della Monster High! Alla ricerca delle sue vittime! È veramente spaventoso! Signore, si tratterà solo di una leggenda? Oh! Dovremmo separarci per depistarlo! Vediamoci nella sala da sbrano! Dobbiamo andare! Sì, ci siamo separate! Proprio come me e Claude! Lui non mi ha mai scritto! Non gli importa assolutamente niente di me! Ma ti ha risposto! Ho conosco solo lettere, ok? Meglio! No! Dovreste essere la mia migliore amica! Perché l'hai fatto? Possiamo parlarne dopo, quando non saremo in pericolo! Vecchia scusa, troppo comoda! Senti, mi dispiace! Shhh! Che cosa vuole? Non sta ringhiando a noi, sta... piangendo! Attenta! Che cos'è che non va, ragazzone? Il venerdì tredici non era l'anniversario di qualcosa di brutto, è il suo compleanno! Oh, si sente solo! Soffia! Quei capelli orrendi tagliati così! Dobbiamo sistemarli subito! È impossibile che siano riusciti a restare per tutta la notte! Ciao, Torelai! La notte più divertente della mia vita! Sorpresa! Ma... come? Come?